E con la questione 12 affrontiamo un argomento importante, l'intenzione cui noi faremo riferimento in seguito per affrontare altre specificazioni in riferimento alla morale. Allora, la prima domanda che ci poniamo è se l'intenzione sia un atto dell'intelletto o della volontà. Ma penso che se ci riflettiamo un po' ci arriviamo. Intenzione. Io ho intenzione di raggiungere questo obiettivo. Quindi se c'è di mezzo un obiettivo, se c'è di mezzo una delibera operativa, vuol dire che l'intenzione è un atto della volontà e non è dell'intelletto. Eppure c'è qualcuno probabilmente che sosteneva il contrario, facendo riferimento anche ad Agostino. Nel Vangelo, Matteo 6,22, si legge Se il tuo occhio è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Nel caso occhio, sta per intenzione, come spiega Sant'Agostino. Ma essendo l'occhio l'organo della vista, sta a indicare una facoltà conoggettiva. Per questa conclusione, però, non è né del Vangelo né di Sant'Agostino. Infatti, l'intenzione è chiamata occhio in senso metaforico. Perché presuppone la cognizione. Se io ho intenzione di dirigere la mia azione verso un obiettivo ben preciso, è perché ho l'occhio ben fisso verso questo obiettivo. Quindi l'intenzione diventa occhio. Come riferimento al fine cui mi sono proposto. Che mi sono proposto. Un'altra citazione. Sant'Agostino afferma che l'intenzione è chiamata luce dal Signore. Là dove dice Matteo 6,23 Se la luce che è in te è oscurità. Ora la luce riguarda la conoscenza. Sì. Verrebbe voglia proprio di pensarla in questo modo. La luce là dove è buio la luce ci dà chiarezza. Però luce può essere anche intesa in altro modo, in senso metaforico. La luce è la chiarezza dell'obiettivo che mi sono proposto. è chiaro che presuppone la cognizione ma qualsiasi atto volitivo è nell'uomo una conseguenza di una conoscenza. Corretta o errata tuttavia sempre ha come presupposto la conoscenza. Quindi risponde Tommaso l'intenzione è chiamata luce perché è evidente a chi possiede. Invece diciamo oscurità le opere perché l'uomo conosce le sue intenzioni ma ignora quello che seguirà dal suo operare come Sant'Agostino serva nel medesimo luogo. E questa è una cosa importante che poi sarà oggetto di ulteriore sviluppo. A noi interessa che la nostra intenzione sia buona. Non dobbiamo aspettare il risultato delle opere. Dice un vecchio proverbio che l'uomo propone e Dio dispone. Il fatto che l'uomo abbia il cuore puro. Scevro quindi da ogni calcolo egoistico. Poi purtroppo molto spesso non utilizziamo i sistemi giusti molto spesso scambiamo il bene per il male molto spesso non c'è una corrispondenza no? E allora anche se la luce è bene definita ecco che le opere non corrispondono a questa luce. Ancora la terza obiezione ci dice l'intenzione indica ordine al fine ma ordinare è ufficio della ragione sì ho capito ordinare è ufficio della ragione ma l'intenzione ma l'intenzione fa leva su questo ordine per chiarire definire il fine insegno termine l'intenzione vuol dire intendere tendere in tendere verso qualche cosa e se io tendo verso qualche cosa perciò l'intenzione appartiene in modo primario principale a chi muove verso il fine la volontà muove tutte le altre facoltà dell'anima verso il fine come abbiamo già spiegato questione in particolo 1 dunque è chiaro che l'intenzione è propriamente un atto della volontà perché è un movimento un tendere in tendere ad un fine ben definito possiamo quindi passare all'articolo 2 se qualcuno che pensa o ha pensato forse in una prospettiva di estrema spiritualità mistica che l'intenzione possa avere solamente un unico termine un unico fine quindi l'intenzione possa avere sempre soltanto come oggetto Dio non c'è dubbio che allora in modo particolare non certamente oggi c'era chi viveva in questa consapevolezza alla presenza perpetua di Dio e tutto faceva consapevolmente in quella prospettiva di grande fede però non per questo l'intenzione deve necessariamente avere come come unico fine Dio e basta ci possono anche essere dei fini intermedi chi sosteneva questa obiezione probabilmente faceva riferimento a questo santo prospero che noi vediamo citato per la prima volta che scriveva nelle sue opere l'intenzione del cuore è un grido verso Dio allora se l'intenzione del cuore è un grido verso Dio vuol dire che l'intenzione è sempre rivolta a Dio diciamo due parole su questo san prospero anche perché non ne abbiamo mai parlato da Quitania siamo nel 463 è stato uno dei più grandi discepoli di Sant'Agostino sebbene probabilmente non l'abbia mai conosciuto aveva conosciuto le sue opere e ne era rimasto sconcertato illuminato molto gli scrisse in prose in versi e quasi sempre a difesa o a illustrazione del pensiero di Sant'Agostino San Leone e Magno non dote la sua amicizia se servì della sua dottrina l'opera citata qui da San Tommaso del sentenziano esoperibus anche San Agostini delibataron libera è come dice il titolo una raccolta di 303 sentenze ricavate dalle opere del grande vescovo di Ippone allora l'intenzione la dobbiamo intendere in questo modo perché San Prospero ci dice che è un grido verso Dio Tommaso dice di no l'interpretazione può essere anche di altro genere grido verso di Dio non perché Dio ne è sempre l'oggetto ma perché egli conosce l'intenzione che è nel nostro cuore oppure perché quando preghiamo indirizziamo a Dio la nostra intenzione o perché quando agiamo vogliamo che fin dal primo momento della giornata le nostre opere siano in sintonia con la volontà di Dio non necessariamente si deve dare un'interpretazione così a senso unico l'intenzione riguarda il fine come termine ma il termine si presenta come ultimo parte del fatto che abbiamo già visto che ci possono anche essere degli termini intermedi è evidente che il termine ultimo della nostra vita della nostra esistenza è Dio tuttavia tuttavia il termine si presenta come ultimo non sempre però come ultimo rispetto al tutto ma talora rispetto ad una parte quindi la vita è fatta a tappe ed è evidente che la mia intenzione l'intenzione è di un bravo alunno che conosce le sue responsabilità è quello di raggiungere il diploma di quinta elementare anche se poi oggi non c'è più nulla di diplomato è tutto una gran confusione poi quello della terza media no? poi quello delle scuole sono tappe no? sono termini che fanno riferimento a una parte della nostra esistenza quindi per quale motivo mai non dovremmo poi ci sono le parti delle parti no? non dovremmo a un certo punto pensare che l'intenzione non possa essere rivolta anche a termini intermedi l'intenzione ha per oggetto il fine come la fruizione ma la fruizione ha sempre per oggetto il fine usi la fruizione sì ma abbiamo anche il frutto che può essere la gioia di aver conseguito un termine intermedio una tappa intermedia la fruizione la fruizione implica il quietarsi della volontà nel fine l'intenzione implica non la quiete ma il moto verso il fine sono due cose anche completamente differenti fruire vuol dire dilettarsi godere pienamente abbiamo già detto che il frutto la gioia può anche essere in tappe intermedie se poi vogliamo parlare di fruizione la fruizione che si ha attraverso la grazia della gloria che si ottiene in un determinato momento che è concludente della nostra esistenza però l'intenzione visto proprio che la nostra vita è fatta a tappe non può regolarsi sempre soltanto in quella direzione sono due cose completamente differenti l'intenzione avesse per lo certo soltanto l'ultimo fine gli uomini non avrebbero che una sola intenzione il che è falso in modo evidente ci sono miglie intenzioni parziali corrette scorrette importanti superficiali che noi ci proponiamo quotidianamente quindi non ce n'è solo una di intenzione rispondeo ora nel moto si può determinare il termine in due maniere primo il termine ultimo in cui esso viene accessare che è il termine di tutto il movimento e va bene questo è il termine che ci darà poi fruizione e che Dio fine bene essere perfetto di ogni cosa secondo un punto intermedio che è principio di una parte del moto è fine o termine di un altro un punto intermedio che è principio di una parte del moto qui abbiamo messo una E senza accento ce la mettiamo adesso è fine per accento sbagliato è fine o termine di un altro se non vogliamo fare l'esempio geometrico se io devo andare di qui a Roma è chiaro che ho delle tappe intermedie può essere la prima Milano e poi Bologna e poi Firenze poi alla fine si arriva come termine ultimo a Roma ma anche B è termine anche Milano la prima tappa è termine del prima del primo movimento anche se non ultimo e si può avere l'intenzione dell'uno dell'altro non è necessario che si tratti sempre del file ultimo quando io voglio arrivare a Roma ho l'intenzione di passare da Milano e non da Genova perciò c'è un'intenzione che fa riferimento delle tappe intermedie che poi sarà subordinata all'intenzione finale che sarà quella di raggiungere la capitale ecco quindi quando parliamo dunque di intenzione non possiamo sempre soltanto pensare all'ultimo fine ma ci sono delle tappe intermedie e questo è una conseguenza dell'articolo 2 sembra che non si possano perseguire simultaneamente due oggetti e si fa riferimento ad una citazione del Vangelo Dio non può seguire non può servire due padroni Dio e Mammona Sant'Agostino afferma che l'uomo non può perseguire simultaneamente Dio e il benessere materiale si ho capito però qui abbiamo due fini contrapposti no? io non posso perseguire contemporaneamente l'obiettivo di dimagrire è quello di ingrassare pare evidente questa cosa poi oltretutto in quel senso lì si sta parlando di due fini ultimi Sant'Agostino parla di ultimi fini perché come abbiamo dimostrato l'uomo non può avere due ultimi fini o tre o quattro l'ultimo fine è solamente Dio ma se noi parliamo di altri fini che non sono necessariamente contrapposti e non si possono definire come ultimi allora l'uomo può porsi su una strada o più strade per raggiungere più fini contemporaneamente e questo esempio ce l'ho della natura la natura con un solo strumento persegue due scopi così la lingua come insegna Aristotele è ordinata sia al gusto ma anche alla favella ma anche alla parola quindi vedete che la natura con lo stesso organo persegue due fini che non hanno che vedere uno con l'altro non sono neanche subordinati per lo stesso motivo l'arte oppure la ragione può ordinare simultaneamente una cosa due fini e così uno può perseguire contemporaneamente più oggetti sia nel caso che un fine sia subordinato all'altro l'abbiamo fatto prima l'esempio sia devo andare a Roma devo passare per Bologna quindi necessariamente il passaggio per Bologna è subordinato al fine di raggiungere Roma ma anche nel caso in cui le cose non siano ordinate tra di loro l'universitario lavoratore che allo stesso tempo studia e lavora sono due fini che non sono subordinati potrebbero anche essere subordinati che uno lavori per pagarsi le spese universitarie ma potrebbero anche essere due obiettivi completamente distinti e che quindi non hanno subordinazione ma che ci dicono appunto che l'uomo può proporsi e perseguire più fini contemporaneamente e andiamo così all'articolo 4 questo articolo è particolarmente delicato anche se a qualcuno potrà sembrare tutta questa riflessione chiacchiere e sottigliezzi inutili ma è proprio per questo che non e lo ripeterò all'infinito non ci si trova spesso e non ci si incontra dunque sempre naturalmente in una prospettiva morale sembra che non sia un identico moto l'intenzione del fine e la evoluzione dei mezzi in parte il concetto non è sbagliato in parte non è sbagliato il moto dell'intenzione del fine e l'abolizione dei mezzi vedremo che ci dirà Tommaso può essere un unico moto ma può anche essere definito in due moti differenti scrive Sant'Agostino che la volontà di vedere la finestra ha come fine la visione della finestra e un'altra è la volontà di vedere i passanti attraverso la finestra questo esempio è illuminante se io voglio vedere la finestra me l'avrà finalmente messa a posto il falegname e poi ho intenzione di vedere chi è che passa sotto casa mia è chiaro che i moti sono due uno vuole controllare la funzionalità della finestra l'altro invece dalla finestra vuole vedere se ci sono dei passanti se c'è ancora magari il falegname o se se ne hanno già andato via ma se io mi propongo solamente quello il moto di vedere il l'intenzione il mio fine è solo quello di conoscere chi sta passando sotto la mia finestra è chiaro che utilizzo la finestra ma la finestra non è un fine differente del mio moto è uno strumento e allora a questo punto identico moto ha un identico moto si fa riferimento ad un fine e tocca sia il fine che l'abolizione dei mezzi sia il fine quello di vedere i passanti sia l'abolizione dei mezzi quello di utilizzare la finestra per vedere se c'è qualcuno in strada infatti la risposta di Tommaso è Sant'Agostino parla del vedere la finestra e del vedere i passanti attraverso la finestra come oggetti distinti della volontà cioè l'esempio che ho proposto io all'inizio voglio vedere se il falegname mi ha aggiustato la finestra in modo corretto e poi mi affaccio alla finestra per vedere se il falegname è ancora presente per magari per dirgli grazie oppure per pagare il suo disturbo due moti differenti due gli atti si distinguono secondo gli oggetti ora fine e mezzi sono oggetti diversi dunque il moto volontario che è l'intenzione del fine è distinto dall'abolizione dei mezzi no l'esempio l'abbiamo proposto se io mi pongo soltanto come fine quello di definire se c'è qualcuno che passa sotto la mia finestra uso la finestra non come fine ma come strumento e dunque il moto è unico non mi soffermo su altre considerazioni perché mi pare che l'argomento sia chiaro dobbiamo poi vedere conseguenze che è importante il moto della volontà verso il fine verso i mezzi adesso ordinati adesso ordinati si può considerare sotto due aspetti primo in quanto la volontà si porta distintamente direttamente sull'uno e sull'altro e allora assolutamente parlando abbiamo due moti della volontà l'esempio di prima è qua voglio vedere la finestra se è stata aggiustata voglio vedere se c'è ancora i faregnami in strada secondo si può considerare in quanto la volontà si supporta sui mezzi per raggiungere i fini e in questo caso è numericamente unico il moto della volontà che tende verso il fine verso i mezzi quindi io mi propongo solo di vedere se in strada ci sono dei passanti e anche se uso la finestra come strumento è unico il moto infatti quando dico voglio una medicina per la guarigione indico un unico moto della volontà voglio guarire non è che io mi sono proposto come fine la medicina la medicina è uno strumento il moto è unico proviamo a vedere le conseguenze di un ragionamento di questo genere guardate che sono molto sempre pratico con argomenti che io penso possono anche essere attuali molti hanno proposto per coloro che si sono macchiati più volte di pedofilia o di stupro levirazione e qualcun altro risponde è una punizione bestiale non umana bisogna vedere se levirazione in un caso di questo genere è uno strumento o un fine o è entrambe allora quest'uomo si è macchiato di pedofilia già tre volte avrà una punizione e questa punizione noi sappiamo è importante per estabilire un certo ordine un certo equilibrio ed è indubbiamente il fine ma tra le espressioni di questa punizione abbiamo anche levirazione ma levirazione è intesa come punizione o ha in sé un altro obiettivo quello cioè di non tenere sempre in carcere un uomo pericoloso di dare anche a quest'uomo una sua libertà ma di togliere di mezzo una mina vagante rischiosissima per dei bimbi o se parliamo dello stupro rischiosissima per delle donne in questo modo noi vediamo in un'applicazione di una legge che può essere discussa ci si accapiglie non si riesce bene a intendere quali possono essere le soluzioni migliori ci si accusa di vendetta si fa il processo soli intenzioni invece se noi mettiamo sul tavolo esattamente quello che si vuole noi possiamo dire l'evirazione è qualche cosa di terribile disumano però io la utilizzo non per punire quest'uomo ma per fare in modo che non si ripeta di nuovo questo crimine che è uno dei crimini più gravi che si possano concepire poi avrà anche l'oppunzione passare anche cinque anni in carcere un esempio ma comunque una volta uscito noi puntiamo anche su un altro obiettivo quindi ci sono due moti della volontà che determinano distintamente l'intenzione del legislatore quello che giustamente porta ad una punizione l'altro che fa in modo che il crimine in qualche modo non possa essere reiterato è chiaro che sotto questa prospettiva allora si può anche pensare a una legislazione in questa linea se invece la legislazione viene concepita esclusivamente come punizione voi capite che siamo un po' su un piano di violenza un piano quasi disumano che potrebbe anche trovare molti ma molti contrari no? perché si ritiene disumano e innaturale io ho fatto sempre e propongo sempre degli esempi limite per poter cercare di capire quali possono essere le implicazioni e le applicazioni di queste riflessioni che non sono riflessioni puramente teoriche quando passeremo poi alla parte pratica specifica vedremo che dovremmo far riferimento a queste riflessioni perciò arriviamo all'ultimo articolo che è il 5 perciò perciò